Daza, in questo video parleremo dei triangoli. Che cos'è intanto un triangolo? Un triangolo è un poligono con tre lati. Questa è la definizione che definisce che cos'è un triangolo. I tre lati sono AB, CB e CA, quelli che vedete relativamente alla figura che vedete a fianco. E un poligono che non ha solo tre lati, ma anche tre angoli interni, che vengono indicati con le lettere greche alfa, beta e gamma. È importante imparare ad utilizzare una nomenclatura relativa ai triangoli corretta. Ad esempio, l'angolo beta è opposto al lato CA. Beta, a sua volta, è compreso tra i lati BC e BA. Poi si dice che CA è adiacente agli angoli gamma e alfa e che CA è opposto all'angolo beta. Quindi esercitatevi, ad esempio, potete dire che il lato BA è opposto all'angolo gamma. Oppure che alfa e gamma sono adiacenti al lato AC, eccetera, eccetera, eccetera. Vediamo bene questa definizione. Intanto si chiamano vertici gli estremi dei lati, come vedete nella figura a fianco. Un vertice si dice opposto a un lato se non appartiene a quel lato. Ad esempio, il vertice C è opposto al lato AB. Gli angoli interni sono quelli che i triangoli... Sono i triangoli formati dai lati. Quindi, ad esempio, l'angolo alfa è relativo al vertice A ed è formato dai lati AC e dai lati AB, eccetera, eccetera, eccetera. L'angolo esterno, invece, è quello adiacente a un angolo interno. Ad esempio, se consideriamo il vertice A e quindi l'angolo alfa, quell'angolo che vedete in rosso, cioè che è stato costruito prolungando il lato AB, si identifica un angolo adiacente, quindi vuol dire che l'angolo esterno è supplementare al relativo angolo interno, ok? Perché i due angoli sono adiacenti se la loro somma è 180 gradi, cioè se sono supplementari tra i due lati. Quindi, prolungando i lati, si possono disegnare e costruire gli angoli esterni a un triangolo. Un angolo interno si dice compreso tra due lati quando i lati dell'angolo contengono i due lati del triangolo. Ad esempio, l'angolo compreso tra C e CB, che si chiama l'angolo gamma, con lettera greca gamma, se non ci sono indicata, però quello è l'angolo compreso. L'angolo adiacente ad un lato, invece, è quando uno dei suoi lati contiene quel lato del triangolo. Quindi i vertici A e B, come vedete nella figura, individuano gli angoli adiacenti al lato AB. Nel triangolo non esistono le diagonali, come in tutti gli altri poligoni con più di tre lati, perché la diagonale è quel segmento che congiunge due vertici che non coincida con un lato. Se noi congiungiamo due qualsiasi dei vertici di un triangolo, otteniamo un lato, quindi non possono esistere le diagonali. In un triangolo ogni lato è minore della somma degli altri due, questa è una proprietà importante. Il perimetro, questa è una definizione, è la somma delle lunghezze dei tre lati, come in qualsiasi perimetro di un poligono, la somma delle lunghezze dei lati del poligono ci dà il perimetro. La somma degli angoli esterni è 360 e quella degli angoli interni, invece, è 180, perché c'è questa formula che per ottenere la somma degli angoli interni di un qualsiasi poligono dobbiamo fare n-2, cioè dove n è il numero dei lati del poligono, per 180. Ad esempio, se vogliamo scoprire la somma degli angoli interni di un pentagolo, facciamo 5-2, cioè 3, 3 per 180, 540, quindi 540 gradi, è la somma degli angoli interni del poligono. Nel caso del triangolo, la somma degli angoli interni di un triangolo è di 180 gradi, è una proprietà abbastanza nota che si può dimostrare, che dimostrerete più avanti. Quella che ho annunciato prima, la prima proprietà che dicevo ogni lato è minore della somma degli altri due, è quella che viene chiamata disuguaglianza triangolare, che è una proprietà importante, per cui la analizziamo nel dettaglio. Ad esempio, consideriamo questo triangolo ABC, che per semplificare è un triangolo scaleno, perché se no non vale questa disuguaglianza triangolare, si complica. Insomma, quindi consideriamo un triangolo scaleno ABC. Se noi prendiamo uno o qualsiasi dei suoi lati, questo lato sarà minore sempre della somma degli altri due, perché se immaginiamo di allargare il più possibile questo lato qui e far abbassare C, C è a un certo punto, se tiriamo talmente AB che C finisce su AB, allora AB è proprio uguale alla somma, se no diventa minore della somma degli altri due. Diciamolo così, insomma, semplifichiamolo così, la dimostrazione. Comunque, la proprietà importante è che un qualsiasi lato è minore della somma degli altri due, quindi AB è minore di AC più CB. Se noi indichiamo con le lettere minuscole la lunghezza dei lati, possiamo dire che C è minore di B più A, analogamente che A è minore di B più C e che B è minore di C più A. Ma vale anche un'altra proprietà importante, che ogni lato è maggiore della differenza degli altri due. Quindi, ad esempio, se consideriamo che AB è il più grande di tutti, poi c'è AC e poi c'è BC, possiamo dire che AB è maggiore di AC meno CB, cioè che C è maggiore di B meno A, e che BC è maggiore di AB meno AC, cioè A è maggiore di C meno B. E quindi, di conseguenza, queste due proprietà le possiamo mettere insieme, possiamo dire che, preso un qualsiasi lato, ad esempio C, possiamo dire che C è compreso tra la differenza degli altri due e la somma degli altri due. Cioè C è sicuramente maggiore di B meno A, ma è anche minore di B più A. Quindi, questi possono essere utilizzati per risolvere dei problemi. Supponiamo di sapere la distanza tra due C, città, ad esempio tra Roma e Bologna. Poi sappiamo la distanza tra Bologna e Verona. Allora, la distanza tra Roma e Verona, saremo sicuri che è maggiore della differenza tra le due distanze che conoscevamo e minore della somma di queste due distanze. In questo modo abbiamo una stima approssimata della distanza tra queste due città. Vabbè, comunque andiamo avanti e vediamo come possono essere classificati i triangoli, perché ci sono vari tipi di triangoli e possono essere classificati in base ai lati, cioè se tutti i lati hanno lunghezza diversa, il triangolo si dice scaleno. Se almeno due lati, cioè se due lati sono congruenti, il triangolo si dice isoscele e se invece tutti i tre lati sono congruenti, allora il triangolo si dice equilatero. Ma possono essere classificati anche in base all'ampiezza degli angoli. Se tutti gli angoli sono acuti, cioè sono minori di 90 gradi, allora il triangolo si dice acutangolo. Se un angolo è di 90 gradi e gli altri due quindi sono acuti, allora il triangolo si dice rettangolo. Se un angolo è maggiore di 90 gradi e quindi gli altri due, siccome la somma deve essere maggiore di 180, sono sicuramente minore di 90, quindi sono sicuramente acuti, allora il triangolo si dice ottusangolo. Quindi un triangolo ovviamente non può avere due angoli ottusi, al massimo ne ha uno solo. E se ha un solo angolo ottulo si dice ottusangolo. Poi vediamo un'altra definizione importante, quella di altezza. Che cos'è l'altezza di un triangolo? È la perpendicolare, condotta il segmento, diciamo, di perpendicolare, condotto da un vertice al lato opposto. Quindi il segmento CH, ad esempio, che vedete nel disegno, congiunge perpendicularmente il vertice C con il lato opposto a B. E CH si dice l'altezza relativa alla base AB. E H si dice il piede dell'altezza o piede della perpendicolare. Quindi AB è la base e CH è l'altezza relativa di AB. Nell'eno, se noi in un teorema abbiamo, per esempio, che sappiamo che CH è l'altezza del triangolo, come scriviamo che CH è l'altezza del triangolo nelle nostre ipotesi del teorema? Basta scrivere che CH è perpendicolare ad AB. Perché della figura, già da come disegnata, si capisce che CH è l'altezza. Quindi l'ipotesi che dobbiamo scrivere, o tesi a seconda, se la dobbiamo dimostrare, è che CH è perpendicolare ad AB, con quel simbolo di perpendicolare che vedete sopra il disegno, che si legge CH perpendicolare ad AB. Se il triangolo, l'altezza normalmente cade dentro al triangolo, come vedete nella figura, appartiene, il piede dell'altezza appartiene al segmento AB. Ma il piede dell'altezza non è detto che appartenga al lato. Se il triangolo è ottusangolo, CH è sempre l'altezza, ed è sempre perpendicolare ad AB, ma H, il piede dell'altezza, finisce sul prolungamento della base AB. Quindi quando abbiamo il triangolo ottusangolo, per costruire le altezze, dobbiamo prolungare i lati, diciamo, adiacenti all'angolo ottuso, i lati adiacenti all'angolo ottuso, e costruire la perpendicolare con la nostra squadra a questi prolungamenti, a questi lati, insomma, l'H, il piede dell'altezza, cadrà fuori dal triangolo. Allora, le altezze, ovviamente siccome in un triangolo ci sono tre lati, tre lati, il triangolo avrà tre altezze, perché per ogni lato è possibile costruire le altezze. Abbiamo detto che se il triangolo è acutangolo, le altezze cascano dentro al triangolo, ai lati del triangolo, insomma, sono contenute dentro al triangolo, e si incontra in un punto che si chiama ortocentro, ed è un unico punto, cioè in cui si incontrano tutte e tre le altezze. E può essere questo ortocentro, può essere un punto interno se il triangolo è acutangolo, può essere un punto coincidente con il vertice dell'angolo retto, dove il vertice a cui appartiene l'angolo retto, se il triangolo è rettangolo, se il triangolo è ottusangolo, l'ortocentro è esterno al triangolo e si costruisce, come abbiamo detto, prolungando i lati relativi all'angolo ottuso, quindi prolungando BC, prolungando AB, costruendo le altezze relative, e tutte queste altezze si incontreranno in un unico punto che è l'ortocentro, che nel caso di triangolo ottusangolo è esterno al triangolo. Vediamo ora invece le bisettrici, perché noi di ogni lato possiamo costruire la bisettrice. Che cos'è la bisettrice? È una semiretta che ha origine in un vertice del triangolo e che divide l'angolo interno in due parti congruenti. Quindi nelle nostre ipotesi, nelle nostre considerazioni, scriveremo che l'angolo ABD è congruente all'angolo DBC. Allora il segmento BD si dice bisettrice dell'angolo ABC. Quindi, poiché in un triangolo A ci sono tre angoli, ogni triangolo, come abbiamo visto per le altezze, ha tre bisettrici. Questo esempio BD è una bisettrice, non sono state disegnate le altre due, ma le possiamo disegnare. E anche, come per le altezze, anche per le bisettrici, le tre bisettrici di un triangolo si incontrano in un punto che si chiama incentro. L'incentro ha la proprietà importante di essere equidistante dai lati, cioè le distanze I, G, I, S e I, K sono uguali e quindi individuano, diciamo, quella che è una circonferenza. Essendo tre distanze uguali, sono i tre lati di una circonferenza e poi ci possiamo costruire la circonferenza. Adesso vedremo, perché l'incentro significa centro della circonferenza iscritta al triangolo. Comunque, l'incentro è sempre interno la differenza dell'ortocento, sta sempre dentro al triangolo in quanto congiunge le tre bisettrici e quindi le bisettrici sono per forza interne al triangolo. Ed è il centro della circonferenza iscritta al poligono, proprio perché IR è uguale a IS e uguale a IT. L'abbiamo chiamato in un altro modo, prima o meno lo stesso, insomma, per capirci, no? I punti, in particolare, CRI, adesso non si vede bene la figura, ma CRI dovrebbe essere un angolo di 90 gradi, non ne ho disegnato molto bene, come CSI, quei punti lì devono essere di 90 gradi. Quegli angoli lì che si individuano tra il lato CB e la bisettrice AS, per esempio, dovrebbero essere degli angoli di 90 gradi. Ok, poi possiamo, un altro punto notevole, lo possiamo costruire a partire dagli assi. Che cosa sono gli assi? Gli assi sono le rette, l'asse di un segmento in generale è la retta perpendicolare al segmento e passante per il suo punto medio. Quindi, per ogni lato potremmo costruire, come abbiamo fatto per le altezze e per le bisettrici, potremmo costruire gli assi. Quindi, se noi abbiamo un triangolo, ad esempio per il lato AB, possiamo costruire l'asse S. Che proprietà deve avere questa SS? Deve essere passare per il punto medio, quindi AM deve essere congruente a AMB e deve essere perpendicolare ad AB. Quindi l'asse è quella retta, passante, l'asse di un segmento è quella retta, passante per il punto medio del segmento perpendicolare al segmento. Questo è un concetto importante che dovete ricordare. E si scrive così che S è l'asse. Si scrive che AM è congruente a MB che S è perpendicolare ad AB. Quindi, se per esempio vogliamo dimostrare che S è l'asse, noi dobbiamo dimostrare che AM è congruente a MB e che la retta S è il segmento AB formano un angolo di 90 gradi. Il punto d'incontro degli assi è un unico punto, come per quelli che abbiamo visto in precedenza, e si chiama circocentro, perché è il centro della circonferenza circoscritta. Infatti, per esempio, se noi vogliamo costruire come costruzione geometrica, visto che in questa scuola si fanno discipline geometriche, si fanno anche le costruzioni geometriche, se noi vogliamo costruire, abbiamo tre punti del piano qualsiasi e vogliamo costruire la circonferenza che passa per questi tre punti. Basta che noi congiungiamo questi vari punti con un triangolo, tracciamo gli assi di questi segmenti, basta che ne tracciamo due, perché poi per il terzo avviene. Questi due assi si incontreranno in un punto, che nella fattispecie è O, ed poi da O tracceremo traceremo la circonferenza che passa per ACB con apertura R. Quindi l'incentro, che proprietà l'incentro, è equidistante dai tre vertici del triangolo, proprio perché i tre vertici appartengono alla circonferenza, e la circonferenza è l'insieme di tutti i punti equidistanti dal centro. Quindi circocentro, infatti, significa centro della circonferenza circoscritta. Quindi AO è congruente a OB, è congruente a OC. e tutti questi coincidono con il raggio della circonferenza circoscritta. Quindi gli assi, abbiamo detto, si intersecano tutti nell'unico punto, che è il circocentro, che però, come è accaduto in precedenza, può essere, come per l'altro centro, può essere un punto interno, esterno, o appartenente al triangolo. Quindi, se l'angolo, se il triangolo è acutangolo, il circocentro è contenuto dentro al triangolo. Se il triangolo è rettangolo, il circocentro coincide con la metà dell'ipotenusa, con il punto medio dell'ipotenusa, scusate. Infatti, sento che deve essere equidistante dagli estremi del segmento, per forza il circocentro deve cadere nel punto medio dell'ipotenusa, altrimenti non sarebbe più il raggio della circonferenza circoscritta. Se il triangolo è acutusangolo, invece, il circocentro è esterno al triangolo, come potete vedere nella terza figura. L'ultimo punto notevole è il baricentro. Il baricentro che cos'è? Il punto di incontro delle mediane. Che cos'è una mediana? Una mediana è quel segmento che congiunge il vertice di un triangolo col punto medio del lato opposto a quel vertice. Quindi, considerando per esempio il lato ac, il punto medio m è tale che am è congruente a mc, così si scrive l'ipotesi punto medio, e quello è il modo per dire che bm è biano. Poi faremo il punto medio di a b, lo congiungeremo con c e avremo l'intersezione sarà il baricentro. Analogamente, anche per b c, se costruiamo il punto medio e lo congiungiamo con a, vediamo che questo punto tutte e tre le mediane si intersecano in un punto. Quindi, qual è la proprietà del baricentro? Abbiamo detto appunto che il triangolo avendo tre lati a tre mediane e questi si incontrano in un punto che è il baricentro. Il baricentro però divide la mediana in un modo particolare perché la divide in due parti tale che quella che contiene il vertice è il doppio dell'altra, cioè in particolare bq sarà il doppio di bm' bb sarà il doppio di bm' e rb sarà il doppio di bm. il baricentro così come l'incentro è sempre interno al triangolo quindi in questo caso siamo sicuri che se congiungendo appunto un vertice con il punto medio del lato opposto sta sempre dentro al triangolo. Bene, ricapitoliamo un po' anche per le costruzioni geometriche come si costruiscono i punti notevoli. Il punto notevole ortocentro che è l'incontro delle altezze si costruisce con la squadra basta che costruire le tre altezze del triangolo e queste si intersecano nell'ortocentro. Per il baricentro ovviamente abbiamo bisogno di un righello perché dobbiamo dividere a metà ciascuno dei lati e congiungerli col punto medio del lato opposto. Il punto di incontro si chiamerà baricentro. Per costruire l'incentro centro della circonferenza iscritta ci serve il goniometro perché dobbiamo individuare la bisettrice e quindi dobbiamo dividere a metà tutti i vari angoli del triangolo e individuare le varie bisettrici il punto di incontro delle bisettrici si chiamerà incendro. Il circocentro invece punto di incontro della circonferenza circoscritta è il punto di incontro degli assi quindi dovremmo sì avremmo bisogno di una squadra con anche il righello perché dobbiamo dividere a metà i vari lati e condurre le perpendicolari a ciascun lato queste perpendicolari si incontreranno nel circocentro. Benissimo io ringrazio l'alunna che ha contribuito alla realizzazione di questo video spero che vi sia di utilità anche per le vostre costruzioni geometriche è vero che tutti si possono fare anche senza il righello perché per esempio il punto medio io lo posso costruire con il compasso sia un segmento o uno dei lati faccio appunto il compasso in un vertice in un estremo e conduco la semicirconferenza passante per l'alto estremo poi faccio la stessa cosa per l'altro estremo l'intersezione delle due circonferenze se le congiungo individuo l'asse che passa appunto per il punto medio del segmento allo stesso modo anche la bisettrice può essere costruita con righe con passo quindi vi rinvio al video che faremo sulle costruzioni geometriche perché è abbastanza importante buona serata a tutti e arrivederci